Ma se invece siete persone seri nel mondo del lavoro, non ascoltate i consigli che vi do io, ma ascoltate i consigli che vi dà Filippo Poletti, sì perché tutte le mattine, tutti i lunedì mattina è qui con noi a darci il buon lavoro. L'unico discorso è qui con noi in carne e ossa qui in studio, questa mattina invece come sempre ci manda il suo contributo, credo da quel di San Donato, così dal background che ho visto sul suo video, con la nostra immancabile tazza di Milano News e quindi a te Filippo, buon lavoro. Buon lavoro a tutti, edizione speciale, sì siamo alla quarantesima puntata di Buon lavoro e come sempre tre parole chiave, la prima parola chiave della settimana è sogni, non smettete mai, mai, mai di sognare, è bellissimo, invito fatto da chi? Da Roberto Bolle, in occasione della nuova edizione di Ballo in Bianco, in piazza del Duomo a Milano. La stella ha detto, la danza è una grande maestra di vita, di impegno, di rispetto, di educazione ha sottolineato e dunque continuiamo a sognare tutti, tutti, tutti. La seconda parola chiave della settimana è smart working, ne abbiamo parlato diverse volte. Ecco che l'amministratore delegato di SISC Italia, Gian Matteo Manghi, ha detto sullo smart working non si torna indietro perché? Perché dà tantissimi vantaggi in termini di costi aziendali, in termini di flessibilità delle persone, in termini di equilibrio fra vita personale e vita professionale e in termini di impatto ambientale. Importante, ha aggiunto, il manager è trovare dei momenti per incontrarsi anche dal vivo perché i rapporti di fiducia e il senso di appartenenza si costruiscono anche guardandosi negli occhi e incontrandosi di persona. Per questo, ha aggiunto, stiamo creando quelli che chiamiamo non uffici ma spazi di collaborazione e dunque benvenga lo smart working, ne abbiamo parlato tante volte a buon lavoro con occasioni di confronto anche dal vivo. La terza e ultima parola chiave della settimana è libri, un libro per ogni dipendente, un po' come accadeva alla Pirelli, alla Falc, sì, 1300 libri per i quasi 1400 dipendenti. Qui è la biblioteca della Same di Treviglio, l'azienda di trattori nella Bergamasca. La biblioteca sarà aperta due volte alla settimana in pausa pranzo, appunto, per una pausa pranzo speciale. In prestito, best seller, classici, romanzi, gialli, libri di poesia, periodici e, appunto, anche pubblicazioni dedicate alla meccanizzazione agricola. Bellissima iniziativa da replicare in altre aziende. E dunque, buon lavoro a tutti con le tre parole chiave della settimana.